Trasparenti, viscide e piccole, all'apparenza sembrano meduse e invece sono nuci di mare. Se ne avvistano sempre più nelle acque dell'Adriatico. Nelle ultime settimane tanti reporter di strada ci hanno inviato video e foto di questi esemplari che arrivano in grossi banchi ma che non hanno un potere urticante. Oggi il naturalista Luca Esposito ci racconta la provenienza e la particolarità di queste creature marine. Somigliano alle noci anche perché presentano dei canali longitudinali che ricordano un po' le nervature del gheriglio della noce appunto. Sono animali come dicevo perché lungo questi canali presentano una fila ordinata di pettini. Queste lineette piccoline sono dei veri e propri pettini che in greco si chiamano ktenos e danno il nome proprio a questo gruppo animale. Questi pettini, prosegue l'animalista, svolgono due funzioni, il movimento nella colonna d'acqua e l'apporto di cibo, ovvero lo zooplanton, come larve e uova di pesci, loro predatori. Le noci di mare, ci spiega l'esperto, sono comparse di recente nelle nostre acque. Questi animali provengono dall'Atlantico, sono esotici quindi e giungono tramite le navi cisterna. Insediati per la prima volta nel Mar Nero hanno raggiunto anche le nostre coste. Perché si sono insediate e diffuse così tanto? Probabilmente una delle cause è che esistono ormai pochi predatori per questi animali. Perché? Perché questi animali sono predati dai pesci, molti dei quali vengono catturati dall'uomo. Quindi trovano questi ctenofori o noci di mare, trovano pochi predatori e un'altra cosa è che i predatori che si nutrono delle noci di mare, ma anche delle meduse o delle ascidie, scambiano i frammenti di plastica che galleggiano nel mare per il loro cibo. E quindi riempiono il loro stomaco di plastica, non riescono a digerire la plastica rimanendo nel loro stomaco, dà senso di sazietà all'animale e l'animale muore di stenti. Sono due quindi i fattori, la plastica in mare e la pesca che riduce i loro predatori. In questo periodo, oltre agli ctenofori, troviamo anche delle meduse, alcune delle quali sono lievemente orticanti, come questa nel video, e che presentano la particolarità di avere sotto ai tentacoli, lievemente orticanti, una popolazione di alghe, le quali, essendo simbionti, producono e organicano il carbonio presente nell'acqua, trasformandolo in zuccheri, la medusa si nutre di questi zuccheri e protegge le sue alghe con i suoi tentacoli orticanti.